È stata presentata questa mattina l'undicesima edizione di Land Art al Furlo, che si terrà dal 22 agosto al 6 settembre sul tema intitolato Il Cammino dell'Arte. E sarà proprio un cammino artistico a dare via alla manifestazione, che si svolgerà nel Bosco di Sant'Anna, presso la Gola del Furlo. Siamo arrivati alla undicesima edizione, abbiamo festeggiato i dieci anni l'anno scorso, i 400 artisti che sono passati a Sant'Anna del Furlo, nel Bosco Incantato, e quest'anno faremo proprio un cammino d'arte dentro il Bosco, che poi finirà ad Anello. Questo è solo il primo anno, saranno 100 artisti che parteciperanno in due o tre anni a questa manifestazione. Siamo diventati ormai un parco di sculture, il terzo in Italia, insomma se calcolate Artesella, il parco di scultura dei Nebrodi, eccetera, siamo la terza realtà in Italia, l'unica nelle Marche come parco di scultura. Ora si inizia al 22, alle 4, si fa la passeggiata, si vede una installazione di street art, poi si vedono altre tre mostre in galleria e poi si fa il passaggio. Mi piace dire che questa passeggiata sarà allietata da una fisarmonicista di Vaglia, che è Manuela Marinucci, che si occupa di folk europeo e quindi ci accompagna. Poi ci sarà anche una performance di Silvia Cassetta, architette e danzatrice. Insomma sarà veramente una giornata bellissima. Poi ci sarà il buffet e poi tutti di corsa a teatro a Cagli, perché solo per noi ci fanno un tè per due regine, che è uno spettacolo bellissimo che mette a confronto due grandi protagoniste del Novecento italiano, Peggy Guggenheim e Palma Bucarelli. Quindi mascherina fuori, mascherina dentro e poi noi prenderemo anche la temperatura, faremo la foto di un documento e dovranno essere iscritti, questo è importante, essere iscritti all'Associazione Culturale Casa degli Artisti per che entrano solo gli iscritti, perché li dobbiamo registrare. Durante la presentazione il presidente della provincia, Giuseppe Paolini, ha annunciato il progetto che prevede la creazione di un bosco nell'area del campus dedicato a tutte le vittime del Covid. Abbiamo deciso come amministrazione provinciale di piantare un bosco, piantando tanti alberi pari al numero delle vittime di Covid che ci sono state, ma non deve essere, come ho detto qua, un luogo di morte e di tristezza, deve essere un luogo aperto, un luogo dove possano entrare i bambini, le famiglie, ci saranno dei percorsi con delle sculture e dei pensieri di personaggi della nostra provincia, penso a Fabio Tombari, a Paolo Volponi, a Gino Girolomoni e ci saranno anche delle sculture, ma io ho chiesto che questo bosco sia un elogio alla vita. pianteremo piante da frutto, alberi da frutto, autotoni delle nostre, delle marche, che potranno essere poi raccolti dai bambini, dalle famiglie che abitano al vicino, in modo che diventa un luogo di vita, di ricordo, riflessione, ma anche di vita.